BRO 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 Cnigo Vediamo se questa volta riesco a fare... A PORCO DEUS! Ecco qua O GIO! Allora... A PORCO DEUS! Dice che sia una cosa normale, vero? E... E vai! A PORCO DEUS! A PORCO DEUS! A PORCO DEUS! A PORCO DEUS! Rivediamo tutti insieme! A PORCO DEUS! A PORCO DEUS! Siamo abituati a disporre di cose che un tempo non esistevano, per esempio abituati alla tecnologia, premendo un interruttore appare un'automobile, girando un rubinetto esce la luce, girando una chiave si mette in moto il gas, eccetera, 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 vediamo. Sequestro della Procura della Repubblica di Agrigento, ebbene sì, ho scoperto che sono un cazzone, perché scopo Salvini. Lo dico con orgoglio, ci ho scopato personalmente per ore, 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 framinate, incruvate, di tutti i colori, ma questo è un governo che vuole... Vabbè, ma adesso basta, mamma sono stancato. Basta.